Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Fortnite, con un nuovo episodio delle Gigi News per andare a parlare in primis del primo teaser della nuova stagione 2 del capitolo 5. Questa mega immagine con la data 8 marzo e la scritta Lo senti il tuono? Tra poco ovviamente l'andremo ad analizzare, ma non parleremo solo di questo, perché dobbiamo anche andare ad analizzare e spiegare un po' la situazione della cesta di Pandora, apparsa tramite il mini-evento dell'altro giorno vicino a colonne cineaste, e poi dobbiamo parlare di tante altre novità in arrivo appunto con la nuova stagione 2 del capitolo 5. Insomma, episodio davvero pienissimo di notizie scoppiettanti. Prima di iniziare, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccando le cose oggette di Fortnite, mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie avrò di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, per non perdervi tutti i prossimi episodi, perché che ve lo dico a fare, siamo alla fine di questa stagione, inizierà la prossima, già venerdì a quanto pare, e quindi non avete idea dei contenuti che arriveranno, quindi non ve li potete perdere, dunque iscrivetevi, e ovviamente lasciate anche un bel mi piace per supportare le GG News. Ora vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ovviamente ragazzi ce ne andiamo alle nostre casettine di fiducia, che penso e spero rimangano anche per la prossima stagione. E prima di iniziare con le notizie, volevo giusto ricordarvi che ieri è uscito l'episodio dell'atterro per un'ora in Ranked, proprio alla Mega Chester lì di Pandora. Quindi che ve lo dico a fa, se ancora non l'avete visto, recuperatevelo perché è stato un gran bel episodio. Dunque andiamo a riprendere l'immagine del primo teaser della stagione 2, è chiaramente Zeus con questo fulmine in mano. Dovrebbe dunque essere tutto sulla mitologia greca, il pass battaglia a quanto pare, o comunque perlomeno le skin principali, un po' come il tema della stagione in generale. E però vi dico già che questa immagine Epic è stata un po' presa in giro, tra virgolette. Voi mo direte, come fa a essere presa in giro con un teaser della skin di Zeus, che tra l'altro sembra anche molto figa. Tra l'altro qui hanno fatto una color correction per farla vedere in maniera un po' più nitida, ed effettivamente è molto bella. Ma la presa in giro arriva dal fatto che c'ha le granate ragazzi, cioè hanno messo alla skin di Zeus le granate. Ora, tralasciando il fatto che io già odio in generale gli ornamenti delle skin come armi, cioè nel senso le armi utilizzate come ornamenti, che ne so, la pistolina, appunto le granate, tutte queste cose qui non mi sono mai piaciute come ornamenti delle skin. Me la metti pure su Zeus ragazzi, vabbè. Soprattutto dopo tutto il problema che c'è stato con i Peggy, quindi con l'età minima per giocare le varie mappe ed utilizzare le varie skin. Su Zeus che potevi tranquillamente non mettere armi o cose, vabbè. Comunque, dicevamo, la stagione sarà praticamente tutta a tema mitologia greca e quindi chiaramente anche il pass. Sono molto curioso però per vederlo il pass, perché non so se effettivamente faranno proprio tutte, 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 tutte le skin di questo tipo. Fatto sta che molto probabilmente anche i prossimi teaser andranno a riprendere le varie costellazioni. Quindi come hanno fatto per esempio con Zeus la rappresentazione del fulmine, lo andranno a fare anche con tutti gli altri dei. Ma perché c'è sta tutta sta... Eh sì, va bene! Cioè, scusatemi un attimo. Cioè, da tutti i lati mi stanno sparando. Ma perché tutta sta gente qui alle mie casettine di... O comunque nei dintorni delle mie casettine di fiducia, raga? Cioè, non... Non sto capendo. Non vi giuro, non sto capendo. Buon, in attimo. Spero che lui non spacchi qui, perché... Sennò potrebbe essere un problema. Io potbo prendere tutti quegli shield a terra, ma... Eh... Non l'ho potuto fare. Ricarichiamo le armi. Spero che loro si stiano distruggendo per bene, perché io a questo punto esco. Ok, non so se quello ha subito dei danni, eh. Godo! Godo tantissimo! Ragazzi, godo veramente tanto, perché per la prima volta, forse in tutta la mia vita, sono uscito fuori da un panino. Questo era un panino bello e buono, dove mi avevano chiuso allo start, e noi invece ne siamo usciti abbastanza puliti. Non pulitissimi, ma abbastanza puliti. Vabbè, comunque, stavo dicendo, ci saranno queste costellazioni molto probabilmente a rappresentare i prossimi teaser, le prossime skin. Tra l'altro, costellazioni che sono già rappresentate sulla gemma, tra virgolette, della chiusura della box di Pandora, quella appunto lì a colonne, con la mano e bla bla bla. E io, raga, come vi avevo promesso, mi sono andato un po' a studiare la mitologia greca. Ovviamente mi sono un po' fidato di siti, cose, robe strane, probabilmente, quindi spero di non fare fail e disinformazioni, quindi prendete un po' con le pinze quello che vi sto per dire. Quindi mi sono andato a riprendere un po' di informazioni. Allora, il vaso di Pandora, innanzitutto, perché si chiama così? Prende il nome dalla donna a cui Zeus regala sto vaso. Quindi Zeus regala sto vaso a sta donna, che si chiama Pandora, e sostanzialmente dona al genere umano, tra virgolette, la prima donna mortale, a quanto pare, che appunto è proprio sta Pandora, con però il vaso che nasconde un po' dei problemini, possiamo dire così. Il vaso, letteralmente, se è aperto, farebbe cadere l'intera umanità, l'intero mondo, nel caos più totale. Quindi possiamo dire che all'interno del vaso di Pandora c'è il caos più totale, che può essere scatenato semplicemente aprendolo. Non solo, ragazzi, sta Pandora, tramite altri dei, diciamo così, impara tutta una serie di cose. Per esempio la seduzione tramite Afrodite, che tra l'altro la rende bellissima. Apollo la musica, era le arti manuali. Insomma, tutta una serie di cose che permettevano a sta Pandora tentare in qualche modo l'umanità. Comunque, raga, Zeus aveva detto a Pandora di non aprirlo, sto... sto... sta box. Dammi questo vaso, ecco. Non lo dovevo aprire. Comunque, sta chest, perché era stato... sto vaso? Perché mo' mi viene da chiamarla chest, perché ormai qua su Fortnite è rappresentata come una box, vabbè. Perché viene regalata da Zeus a Pandora? Perché sostanzialmente lui si doveva vindicare di Prometeo, un titano, sempre della mitologia greca. Quindi aveva regalato... ovviamente, ragazzi, starò facendo una marea di errori e confusioni incredibili. Però, insomma, è per capire un attimino il succo del discorso. E quindi, per creare un po' di caos e macelli, ha regalato sto... sto vaso a sta Pandora. Comunque, tutto ciò semplicemente per dire che, teoricamente, sta box adesso dovrebbe portare il caos nel mondo di Fortnite. Anche perché, ragazzi, se dovessimo star qui e studiare tutto bene il mito di Pandora, tutte queste altre cose qui, staremmo fino a domani. Infatti, non stare neanche qui a dire di chi potrebbe essere la mano, chi diceva Efesto, chi diceva Erebo. Erebo, anzi, dovrebbe dirsi. Insomma, tanti nomi tirati un po' lì, come teorie, ovviamente. Ma, di fatto, va un attimino capito, effettivamente. Oh, mio Dio, hanno provato anche a cecchinarmi. No buena questa cosa, veramente no buena, anche perché vorrei semplicemente arrivare in safe io. Quindi, comunque, con tutto questo caos dovrebbero poi succedere cose durante la prossima stagione, che staremo a vedere. Comunque, abbiamo visto tutta la presentazione di Odissea, no? Che ce l'aveva detto, che sarebbe stato un casino, i medaglioni erano frammenti di un potere più grande, che poteva essere il punto zero. Oppure adesso staremo a vedere se ce lo spiegheranno durante la prossima stagione. Insomma, avremo modo poi di scoprire cosa è successo, avremo modo di parlarne. Però, per ora, queste sono le cose che sappiamo con certezza. Ora, mi stanno sparando di nuovo. Mi stanno sparando da dietro, tra l'altro, a quello lì, che non mi sembra neanche troppo sveglio. Però, io vi devo dire la verità, me ne vorrei scappare. Cioè, nel senso, io adesso looterò questo qui. Ok, che almeno ci prendiamo colpi, colpettini, roba varia. Ma poi me ne andrò. Ora, questo qui proverà a spararmi? Spero di no. Ora, molti, giustamente, visto che si sta andando a riprendere tutto un discorso di dei, stanno dicendo, ma non è che potrebbe tornare Kratos a questo punto? Bene, Kratos, però la versione, diciamo, 2005, tra virgolette, è stata menzionata da Fortnite. Quindi, ragazzi, sì, potrebbe in realtà tornare. Però, magari, in un'altra versione, ecco la scusa a far tornare anche tutto il vecchio set, non lo so. Però, sì, questa voce sta prendendo forma. Sarebbe molto figa come cosa. Per quanto riguarda altre novità, parliamo in particolar modo delle modifiche. Sappiamo che le modifiche ormai hanno un ruolo fondamentale nel gameplay di Fortnite. Come vi dico sempre, a mio avviso, è meglio scegliere un'arma modificata in un certo modo come voi preferite rispetto a quella stessa arma, ma modificata male anche di due rarità superiori. Perlomeno io preferisco così, poi ognuno, chiaramente, ha le proprie preferenze, mi viene da dire. Allora, io in realtà farei una cosa, farei così e così. Eh, ciao bro. Ok, il bro è andato un attimino a scoppio ritardato, per fortuna per noi, perché anche io inizialmente non stavo facendo nulla. Quindi, va bene così. E quindi, quali sono queste possibili modifiche nuove che arriveranno e che si potranno fare le armi? Allora, già un po' che ne parliamo, però, per esempio, i proiettili infuocati. Sarebbe figa come cosa da capire, magari, se non troppo sbroccata, perché il pericolo è quello, ovviamente. Poi, ovviamente, tutta una serie di cose che andrebbero a potenziare a livello statistico le armi, magari il danno da lontano. Avete visto, no? Che più siete lontani dal vostro avversario, meno danno gli fate, sostanzialmente. Quello di riacquisire vita hittando gli avversari. Insomma, una serie di cose che, tra l'altro, assomigliano molto ai perk. Sappiamo, ragazzi, che Epic stava lavorando a un ritorno dei perk, ma, a quanto pare, molte delle modifiche che potremo apportare alle nostre armi durante la prossima stagione sono proprio riprese da vecchi perk. Per esempio, anche quello di non consumare proiettili quando si spara. Anche quello è uno di quelli più citati di modifiche che potrebbero arrivare. Ma poi ci sono cose anche come, per esempio, quello che abbiamo in questa stagione dove tu puoi ingrandire il caricatore dell'arma. Comunque, una serie di modifiche, secondo me, molto interessanti. Epic può lavorarci davvero bene su queste cose, a mio avviso. Il tutto potrebbe comunque coesistere con i perk, eh. Cioè, i perk potrebbero comunque tornare. Cioè, io non vedo perché con le modifiche alle armi non possano tornare i perk. Semplicemente fai dei perk che non abbiano delle abilità extra per le armi. Cioè, le abilità extra per le armi le fai tramite le modifiche. Tra l'altro puoi creare anche diversi banchi da lavoro. Per esempio, i banchi da lavoro speciali dove puoi fare solo determinate modifiche con quelli. Banchi da lavoro classici che ci puoi fare solo altre modifiche. Insomma, si può fare un po' di tutto. Non vedo limiti e quindi spero che Epic non si faccia scappare questa grande occasione. Ora qui però arriviamo a parlare di una cosa molto interessante. Attenzione, mi devo mettere in un scespuglio. Calmiamoci un attimo. Tanto siamo quasi in endgame, quindi ci andiamo a giocare dopo con calma. Allora, leggiamo tra le varie modalità e coppe e tornei che potrebbero arrivare nella prossima stagione. Florislava, Ranked Cup, Performance Evaluation, Duos Zero Build, Victory Cash Cup e la JJK Cup, che è sostanzialmente la Jujutsu Kaisen Cup. Che sarebbe molto figa perché, tra l'altro, hanno un po' smesso di fare quelle cup speciali a tema. E a me piacevano. Sinceramente a me piacevano moltissimo. Tralasciando il fatto che sarei gasatissimo dal fatto che possano tornare in modalità e cup del genere, compresa anche la De Florislava. Le altre cup, ovviamente, sono quelle normali, comunque, insomma. Nulla di nuovo, credo, da quello che leggo. Però la cosa che vi stavo dicendo è che la De Florislava dovrebbe tornare con un nome in codice, se possiamo dire così, perché nei server di gioco, nei file di gioco, anzi, viene chiamato tipo il gioco di Nida. Cioè, non è proprio una De Florislava. Cioè, nel senso, ha la stessa modalità di come funzionava la De Florislava, su Fortnite ci sono già state delle cup con quella modalità di gioco. Ma la nuova De Florislava si chiamerà comunque con il nome di Nida all'interno del titolo della modalità. Da qui molti hanno ripreso il fatto e detto, boh, ma quindi tornerà Nida. Ora, sinceramente, appena io ho visto aprirsi il vaso di Pandora, ormai chiamiamolo così, ho notato immediatamente come ci fossero tutte le anime che si stavano sprigionando nel mondo. Quindi, tanti personaggi che effettivamente hanno fatto fuori, morti o non, dato che comunque Donald Mustard, che ormai ricordiamo non lavora più in Epic, aveva detto che Nida non era morto. Comunque, a prescindere, molti personaggi che avevano tolto di mezzo potrebbero tornare in altre vesti. Cioè, non sappiamo effettivamente questo caos cosa possa rappresentare. E quindi potrebbe succedere un po' di tutto. In più, la Florislava è stata rinominata col nome di Nida e quindi qui la situazione si fa un po' più interessante e intrigante soprattutto. Quindi, è un possibile Nida potrebbe tornare? Boh, potrebbe tornare sotto 3000 punti di vista, semplicemente con questa modalità, semplicemente, magari effettivamente con questa roba della trama, però poi magari lo rivelevano immediatamente. Non lo sappiamo, anche perché la linea artistica, da quando sei andata a Donald Mustard, non è che sia mai stata troppo chiara. Cioè, l'evento finale del capitolo scorso non era un vero e proprio evento finale dove si riprendeva la trama. Però, come abbiamo visto all'inizio di questo capitolo 5, la trama è stata un po' ripresa con nuovi personaggi, principalmente Jones, ok, ma nuovi personaggi. E quindi la situazione si sta rifacendo un po' interessante. Chissà che cosa accadrà. Potrebbe essere comunque un qualcosa di molto figo, eh. Io, lo sapete, ormai non mi hypo più così tanto, cioè non vado a creare hype inutilmente, perché ormai abbiamo visto che Epic tante volte crea dei castelli incredibili, ma poi non conclude nulla. Però io lascio sempre la porta aperta a future novità incredibili, quindi vediamo un po' quello che succede. Fatto sta, però, che già durante il Fortnite OG erano previste queste FNCS Chaos da giocare, appunto, durante le stagioni OG. Perché una si doveva giocare, appunto, dal 5 novembre 2023 l'anno scorso, una addirittura adesso il 24 febbraio 2024, ma non ne abbiamo viste, di queste Chaos FNCS. Ma le future dovrebbero essere il 27 marzo, quindi questo mese, tra un paio di settimane o poco più, diciamo tre, e poi il 21 aprile, le finali a maggio e giugno. Però non si sa bene a che cosa stiano lavorando. Sappiamo con certezza che Epic ha detto pubblicamente che lavorerà per far tornare un Fortnite OG nel 2024, anche se probabilmente in una veste un po' diversa, quindi con una modalità a parte e non nella battaglia reale, quello poi è da valutare. Quindi bisogna capire se poi hanno deciso di rimandare queste cap per farle bene, magari, con una stagione futura, oppure, boh, non sappiamo bene cosa siano, proprio perché sono sempre nei file di gioco. Ora, comunque, io qua sopra mi sa che ho quello che ha tutti i medaglioni, eh, vabbè. Comunque, raga, fatemi sapere cosa ne pensate. Il tutto, secondo me, è estremamente interessante. Era parecchio che non parlavamo di situazioni così intriganti. Poi questa cosa che sono andati a riprendere la mitologia greca, secondo me, lo rende ancora più interessante. No, raga. No, mamma mia, se mi entrava un e-shot su questo che c'ha tutti i medaglioni in pazzivo, eh. Io ve lo dico. Lo provo a pushare, non me ne frega niente. No, raga, ho missato. Ho sbagliato tutto, assolutamente. No, non volevo farti del male, bro. Ho sbagliato tasto. Ho banalmente sbagliato tasto. E mi sono impicciato, quindi va benissimo così. Ci abbiamo dato un assaggino, ecco. Ci siamo dati un assaggino a vicenda. No, però veramente, sul serio, era un po' che non... Che non ero così interessato a seguire un attimino tutte quante le vicende che circondano il mondo di Fortnite a 360 gradi. Comunque, raga, questo ha lasciato tutto qui. Adesso mi sta provando a cecchinare, ma a noi non interessa. O meglio, sicuramente adesso mi tirerà una cecchinata di quelle proprio incredibili, ma questa è un'altra storia. Posso prendermi l'assalto di Montaghi? Forse sì, forse sì. Diciamo di sì. E quindi niente. Cioè, sostanzialmente, questo è quanto. Quindi, ripeto, fatemi sapere la vostra sotto con un commento. No, dai, no, 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 no. Cioè, si è spostato all'ultimo. E lui mi ha ritato. Vabbè, è un fenomeno. Un fenomeno incredibile. Un fenomeno pazzesco. Io, invece, ho missato il colpo in maniera del tutto fallimentare. Era fermo, raga. Cioè, era fermo. Era letteralmente fermo, ragazzi. Cioè, come ho fatto a missarlo esattamente? Cioè, non... Ok, che si è spostato all'ultimo. Però, mannaggia, la miseria. Do stanno, mo? Ok, c'è uno che spara lì. Lui si è spostato di qua. Però non comprendo. Non comprendo. Quello continua a sparare alla gente. C'abbiamo quello con tutti i medaglioni palesemente qua sopra. Io... Non è che sia messo proprio benissimo qua sotto. Quindi proviamo a salire un pochettino. Stanno sparando di brutto qui. Però... Ok, l'hanno ucciso, quindi, quello lì. Quando l'ho ucciso... Possiamo un attino provare... No, 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 no! Cioè, fermi tutti! Cioè, io ho capito che faccio schifo con questo mirino. Però neanche a far così. No, raga. Io con questo mirino ogni volta non capisco dove devo mirare. Ma a parte le fatte mi sa che si è di nuovo spostata all'ultimo. Oh, godo! E che cavolo! Cioè, non l'ho preso da fermo. L'ho preso nel momento in cui saltellava. Boh, sta cosa è molto strana. Effettivamente è molto particolare. Però va bene così. Cioè, va benissimo così. Quell'altro che sta a fa? L'ho sentito muoversi? Mi ha segnato dei passi? No, non credo. Stiamo attenti. Stiamo attenti. Lui ha ovviamente tutto il loot bellissimo. Quindi abbiamo rubato tutto quello che potevamo rubare. Scendiamo. Cattivi. Ma l'ultimo mi pare bello nascosto, eh. Dove sarà tra queste montagne innevate l'ultimo? Dai, fatti vedere, signore. Fatti vedere. Oh, Dio. Oh, Dio. Dove sei? Che fai? Uh, eccolo. Let's go. Ce la portiamo anche a casa, signori. Ce la portiamo anche a casa. Peccato che non avevamo la corona. Nessuno di quelli che ucciso aveva la corona. Ma ce la portiamo a casa. Va bene lo stesso. Detto questo, ragazzi, appunto, fatemi sapere cosa ne pensai tutto quello di cui abbiamo parlato quest'oggi. Secondo me è tutta roba molto interessante. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e lasciate un bel mi piace. Ma soprattutto, ma al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Grazie a vero di cuore a tutti coloro che lo faranno. Per me è tutto, ragazzi. Ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuoli.